Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti a un'altra lezione, un'altra lezione inglese. Ok, ci eravamo lasciati a pagina 44, 444, quindi aprivi il libro a pagina 44. Intanto faccio i complimenti a tutti quelli che mi hanno mandato i compiti e mi raccomando, chi non l'ha fatto lo faccio al più presto, la puntualità, vi ricordo che siamo a casa ma non siamo proprio in vacanza, quindi cerchiamo di lavorare rispettando i tempi il più possibile, ok? Ok, so let's start with this exercise where we have to listen to the voice and circle the objects or the animals that we hear. Ok, so circle the things you will hear. Cerchiamo le cose che sentiremo da questa voce. Attenzione, look at this picture. We have a boy here, we have a girl here, we have a black dog here and a brown dog down here. The boy and the girl have two school bags and in their school bags there are two big rulers. Ok, so listen carefully and circle. Page 44, exercise 15. What is it? It's a small brown dog. What is it? It's a purple school bag. What is it? It's a blue ruler. So three things. A small brown dog, a purple school bag and a blue ruler. Try to find these three things and circle them. Cerchiateli e trovateli, ok? Buon lavoro! Allora, come sempre alla fine della nostra lezione abbiamo un piccolo riassunto su quello che avremmo dovuto imparare insieme in questa unità. Cosa avremmo dovuto imparare? All of the farm animals and pets. Tutti gli animali della fattoria e i pets che abbiamo detto essere gli animali domestici. Very good. Se sapete tutti i nomi di questi animali, provate a ripeterveli. Se riuscite a dirli tutti quanti, then you can color this face. Potete colorare questa faccina. If you know some of the farm animals and pets, but not all of them, se ne conoscete solo qualcuno, ma non tutti, allora you can color this face. Coloriamo la seconda faccina. In questo caso andiamo a ripassarceli, ok? Ok, very good. In the next page, here, page 45, you can just color, draw and color your favorite animal. So we are at the farm, we can see a horse here, and what else? A chick here, and here in this white space, you can color and draw your favorite farm animal. Il vostro animale da fattoria preferito. Quando torneremo a scuola, mi direte qual è il vostro farm, favorite farm animal, ok? Con questo capitolo si chiude l'argomento animali, ma credo che a breve vi invierò anche poi un piccolo test per vedere se li avete imparati davvero tutti quanti, ok? Possiamo per oggi ancora andare un pochino avanti insieme. We are at page 46, turn the page, girate la pagina, turn the page, and we can learn together some parts of the body. Impariamo insieme le parti del corpo. Ok, look at this picture. We have our three monsters, remember them? The red monster, the orange monster, and the green monster. And they touch a part of the body. Stanno toccando una parte del loro corpo. Intanto, where are they? Dove si trovano? Think about it and try to image where they can be. They are at the gym. Sono in palestra, ok? Ok, so the red monster touches his knees. Cosa tocca? Le sue ginocchia. In inglese le ginocchia si chiamano knees. Touch your knees too. At home, touch your knees. Provate a toccare anche voi le vostre knees. E a ripetere bene, knees, le ginocchia. The orange monster touches his shoulders. Ok? His shoulders, le spalle. You too, touch your shoulders. Provate anche voi. The green monster touches his head. Head. Cosa tocca il mostro verde? La sua? Testa. In inglese si dice head. Head. Allora, c'è una canzoncina che molti di voi sicuramente conosceranno per imparare tutte queste parti del corpo. Io vi faccio sentire una rima. Non è proprio una canzone. Sul nostro libro abbiamo una rima. Ma voi a casa potrete sicuramente andare a cercarla su YouTube sotto forma di canzone che è un po' più divertente e così vi aiuta a memorizzare meglio queste parole. Sentite un po'. Circle time. Page 46. Exercise 1. Head and shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head and shoulders. Knees and toes. Eyes. Ears. Mouth and nose. Vediamole bene insieme. Head. Abbiamo detto essere la testa. Pian piano che nominiamo le parti, voi provate a toccarle sul vostro corpo e a ripeterle. So, head. Testa. Shoulders. Spalle. Knees. Knees. Ginocchia. Toes. Andiamo più giù. Toes. Non sono i piedi. Attenzione. Toes sono le dita dei piedi. Ok. Then it repeats. Head and shoulders. Knees and toes. Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo questa volta sulla nostra face, faccia. Eyes. Occhi. Toccate i vostri occhi. Ears. Orecchie. Mouth. Bocca. And nose. Naso. Provate più volte con l'aiuto di questa rima, appunto, se volete cercare una canzone, a toccare le parti del corpo e memorizzarle bene. Ok? Very good. Ok. I know you can do it and it will be fun, I think. Ok. Here below. We are at the gym. And the exercise you have to do is to draw, draw with your pencil, a boy here and a girl here. Ok? I'm not going to tell you what a boy and a girl is. Because you know it. Boy here and a girl here. Draw both of them in this picture. Desegnateli in questa figura. Sicuramente sapete che cos'è un boy e che cos'è un girl. Perché l'abbiamo visto in classe diverse volte. Ok. So we can go on to page 47 all together. Here we have all the parts of the body. look, the boy here says I've got one head. I've got, I've got, ci ricordiamo vuol dire io ho, io ho una head. Head era la testa. Very good. Cosa dovete fare? Dovete mettere i numerini in ordine così come li avete sentiti nella rima precedente. Ok? So, repeat with me. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Eyes, ears, mouth, nose. Ok? Ad ognuno il suo numero così come vengono nominati nella rima. Ve la faccio sentire ancora una volta. Page 47. Exercise 2. Head and shoulders, knees and toes. Knees and toes. Knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Eyes, ears, mouth and nose. Ok, nell'ordine in cui li avete sentiti mettete i numerini from one to eight. Da uno a otto. Vi lascio con un'ultimissima frase di quelle che appendevamo in classe. Vi ricordate? Avevamo imparato, for example, I'm sorry o let's share. Tutte queste belle paroline che ci aiutano a essere più gentili con gli altri. Qua ne abbiamo un'altra. Stanno correndo, stanno facendo un percorso. But what happened in number two? The green monster helps the red monster. Perché fa questo? Lo ha visto un po' in difficoltà e allora gli è andato in aiuto. E cosa gli dice? Gli dice let me help you. Significa lascia che ti aiuti. È una bellissima frase da imparare. E sarebbe anche carino che noi lo dicessimo anche in questi giorni a casa, magari con mamma e papà o con un fratellino. Ok? Let me help you. Proviamo a ripeterla insieme e a sentire bene la pronuncia. Page 47. Exercise 3. Everyday English. Let me help you. Ok. Let me help you. Tra gli esercizi che vi darò per compito ci sarà anche il solito in cui dovrete colorare la vignetta giusta dove secondo voi viene detto proprio let me help you. Ok. Ciao bimbi. Alla prossima. Spero che state tutti bene. Buon lavoro. Bye bye. Ciao bimbi. Ciao bimbi. Ciao bimbi. Ciao bimbi. Grazie a tutti.